Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Questa profezia di Isaia non finisce mai di commuoversi, specialmente quando l'ascoltiamo nella liturgia della notte del Natale. E non è solo un fatto emotivo, sentimentale. Ci commuove perché dice la realtà di ciò che siamo. Siamo popolo in cammino e intorno a noi e anche dentro di noi ci sono tenebre e luce. E in questa notte, mentre lo spirito delle tenebre avvolge il mondo, si rinnova l'avvenimento che sempre ci stupisce e ci sorprende. Il popolo in cammino vede una grande luce. Una luce che ci fa riflettere su questo mistero. Mistero del camminare e del vedere.